E torniamo in diretta amici del legionario per la puntata numero 128 della nostra rubrica 10 minuti con il legionario una Roma che domani affronterà il Milan in quel di Milano la prima della classe una partita sicuramente non facile domani ore 20 e 45 chiuderemo questa quarta giornata di Serie A Team una Roma che dovrà fare a meno di Chris Molling purtroppo per questa distorsione al ginocchio sinistro che l'ho tenuto fuori anche nelle partite contro Benevento e Young Boys partita di Europa League di cui parleremo tra poco concentriamoci però sulla partita contro il Milan perché Fonseca ha parlato un'ora fa in conferenza stampa ha detto che Mirante partirà dal primo minuto sicuramente i tre lì davanti inamovibili vale a dire Pedro, Mkhitaryan e Dzeko saranno della partita da sciogliere il dubbio in mediana probabilmente Veretù dal primo minuto insieme a Lorenzo Pellegrini Sulla destra Santon, Ballottaggio Santon, Bruno Perez, Karsdorp anche se l'olandese non lo vedo sinceramente parte della partita dal primo minuto perché ha giocato contro lo Young Boys non ha fatto troppo bene si vede che deve recuperare un po' la condizione fisica ancora vedo Santon personalmente come favorito anche visto e considerando anche che non ha giocato a Berna contro contro gli Svizzeri per cui vedo più Davide Santon titolare favorito sulla Fascia destra a sinistra invece l'inamovibile Spinazzola uno dei giocatori più in forma non solo della Roma in questo momento ma anche di tutta la Serie A sta facendo benissimo Spinazzola per fortuna una Roma che dietro recupera Gianluca Mancini l'altro ieri era risultato positivo al test del covid per fortuna falso positivo ieri negativo al doppio tampone per cui partirà insieme alla squadra per Milano domani mattina una Roma che oggi ha svolto la rifinitura in vista della partita contro il Milano anche Pioli ha parlato in conferenza stampa ha detto la Roma è un avversario forte dobbiamo cercare di limitarli tecnicamente Cialanoglu non sarà della partita una buona notizia per noi dal momento che è un giocatore molto importante per per loro insomma affrontiamo una squadra in palla che sta facendo molto bene e ha vinto anche contro il Celtic in Europa League domani si è parlato molto di questa sfida tra Dzeko e Ibrahimović Fonseca ha risposto bene ha detto non affrontiamo Ibrahimović ma affrontiamo il Milan sicuramente Ibrahimović è il perno di questo Milan un giocatore forte che ha dato tantissimo ai rossoneri non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale di spogliatoio avere un giocatore del genere può soltanto che fare bene perché fa crescere anche gli altri giocatori Il Milan è una squadra interessante sicuramente non sarà facile affrontarli in casa loro soprattutto anche se ormai casa o non casa insomma cambia poco perché dopo il decreto di poche ore fa si tornerà a giocare addirittura a porte chiuse quindi le mille persone che abbiamo visto negli stati fino alla scorsa giornata non ci saranno più purtroppo si tornerà a sentire soltanto Si torneranno a sentire soltanto le urla dei giocatori e degli allenatori purtroppo speriamo che questa situazione possa finire presto anche se insomma per arrivare a misure drastiche come queste vuol dire che si è aggravata ulteriormente rispetto ai mesi scorsi Fatto sta che il campionato deve continuare perché c'è questo protocollo sperando che non si erifichino più situazioni come quella di Genoa e come quella di Torino tra Juventus e Napoli lì c'è stata una falla praticamente nel protocollo Per quanto riguarda il Genoa invece speriamo non ci sia più un focolaio all'interno di alcuna squadra è un campionato che deve assolutamente continuare si è parlato anche in questi giorni di un'ipotesi playoff playout Fonseca prima in conferenza stampa ha dato una risposta più che giusta ha detto che bisogna continuare su questa onda cercare di portare il campionato a termine non sarà facile però c'è un protocollo va rispettato Se è stato possibile portare a termine lo scorso campionato si può portare a termine anche questo ovviamente con molte difficoltà perché non mancheranno i positivi sicuramente nelle squadre però il calcio noi lo vediamo abbiamo sempre detto Noi lo vediamo da tifosi ma c'è un'industria 7% del PIL di questo paese e credo debba continuare perché dietro a quei ragazzi che corrono dietro a presa al pallone ai 22 giocatori ci sono tanti lavoratori e tanta gente che ovviamente deve poter lavorare Per cui ci auguriamo che oltre per il nostro divertimento e perché insomma il calcio è una parte integrante delle nostre vite di tutti i tifosi ci auguriamo che possa continuare anche e soprattutto per garantire il lavoro a moltissime persone Detto questo stanno giocando in questo momento in Serie A si sta giocando Benevento-Napoli 0-0 il derby Campano 9 minuto e poi c'è Parma-Spezia 8 minuto 0-0 Cagliari-Crotone hanno giocato alle 12.30 Il Cagliari ha vinto per 4-2 contro un Crotone che comunque è una squadra ostica da affrontare alla fine la qualità del Cagliari ha prevalso sulla squadra calabrese Alle 18 ci sarà Fiorentina Udinese e poi ore 20.45 Juventus-Verona domani chiudiamo noi questa quinta giornata Milan-Roma Match di cartello sicuramente una Roma che ha un'occasione ghiotta per avvicinarsi ai Rossoneri e per avvicinarsi di conseguenza all'alta classifica Una classifica che vede in questo momento il Milan primo a 12 punti Sassuolo a 11 punti con il pareggio dell'altro ieri contro il Torino per 3-3 Il Sassuolo è una squadra molto interessante l'Inter terza a 10 punti un Inter che ha vinto contro il Genua ieri per 2-0 Poi quarto il Napoli con 9 punti Atalanta non Atalanta quinta a 9 punti Sampdoria sesta a 9 punti e poi ci siamo noi noni a 7 punti a pari punti con il Verona E con un punto in meno rispetto alla Juventus una Roma che deve cercare di vincere per scavalcare l'Atalanta sperando in un passo falso soprattutto del Napoli oggi contro il Benevento Detto questo pochi calcoli dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria domani non sarà facile però insomma sono due squadre equilibrate secondo me e sarà una bella partita questo sicuramente Sperando che la Roma possa portare i tre punti nella capitale e fare una grande partita una vittoria che ti darebbe slancio dal punto di vista della classifica dal punto di vista morale Perché insomma comunque andresti a vincere contro una squadra che ha vinto le prime quattro partite a punteggio pieno e ripeto sarà speriamo che possa essere una bella partita e che si concluda con una vittoria della Roma Una Roma che ha giocato giovedì contro lo Young Boys abbiamo vinto per 2-1 una vittoria molto importante quella dei giallorossi Inter-Svizzera non è stata sicuramente la partita più bella da quando c'è Paolo Fonseca sulla nostra panchina però comunque è stato importante vincere fuori casa contro probabilmente la seconda squadra più forte del nostro girone Una squadra ostica che nel primo tempo soprattutto ci ha messo in difficoltà complice anche il fatto che Fonseca abbia schierato praticamente per 9-11 le riserve Il suo obiettivo era quello di far riposare tutti in vista della partita di domani ma soprattutto in vista di questo tour de force dal momento che la Roma ha tantissime partite nell'arco di questo mese Fino a metà novembre praticamente giocheremo quasi sempre per due volte a settimana per cui mi è piaciuta molto la scelta di Fonseca di schierare le seconde linee chiamiamole così è giusto chiamarle così rischiando consapevole del fatto che avrebbe sicuramente abbassato il livello della squadra dal momento che non tutti possono permettersi di avere due squadre come la Juventus o come l'Inter o come tutte le altre squadre più forti e più blasonate d'Europa Una Roma che si vede che senza quei 3-4 giocatori in più che fanno la differenza Penso a Spinazzola in questo momento, penso a Dzeko, Mkhitaryan, Veretout Una Roma che è una squadra assolutamente normalissima che ha sofferto lo Young Boys Abbiamo finito il primo tempo infatti sotto per 1-0 poi nel secondo tempo con i cambi È entrato Pellegrini, è entrato Veretout, è entrato Dzeko, è entrato Mkhitaryan, è entrato Spinazzola che ha dato quell'apporto sull'esterno che era mancato nei primi 45 minuti Una Roma che poi ha portato a casa la vittoria praticamente negli ultimi 20 minuti abbiamo chiuso le pratiche Si è vista nettamente la superiorità della Roma È normale avere quei giocatori, magari tutti vorrebbero avere una squadra con moltissimi campioni Purtroppo non ce lo possiamo permettere, non siamo la Juventus o l'Inter che quest'anno ha praticamente due squadre Chi gioca gioca sono comunque tutti forti È normale che in una squadra ci siano delle gerarchie Mi è piaciuto Fonseca che comunque se l'ha rischiata e ha voluto dimostrare che tutti i giocatori sono importanti Ci sono alcuni giocatori che purtroppo non sono da Roma Penso a Juan Jesus, mi dispiace dirlo perché comunque potrebbe essere un ottimo quarto difensore Ma ha giocato, anzi, nelle annate precedenti quando era stato chiamato in causa ha sempre risposto presente Purtroppo però già quest'estate ha rifiutato diverse destinazioni Pesando comunque a bilancio della Roma Fonseca ovviamente se l'ha dovuto tenere e lo ha schierato Fazio che non ha fatto per niente una buona partita però può essere un buon quarto centrale Poi Karsdorp, Borca Majoral, questi sono giocatori da Roma secondo me Il problema è che l'atteggiamento non è stato proprio consono alla partita Giocatori che non giocano mai, Borca Majoral avrà i suoi spazi, era all'esordio Avrebbero dovuto arare il campo praticamente Invece un atteggiamento un po' superficiale secondo me da parte di diversi giocatori Che avrebbero dovuto fare bene Mi è piaciuto Cristante con la fascia da capitano Prima partita per Brian Cristante con la fascia Da quando a Roma mi è piaciuto, è in crescita il ragazzo Sono contento e chissà probabilmente potrebbe partire dal primo minuto anche nella partita di domani Cristante che ha fatto il reduce da due ottime partite appunto contro il Benevento e contro lo Young Boys Una Roma che conquista quindi questi tre punti In Europa League scenderemo in campo giovedì 29 ottobre contro il Sesca Sofia ore 21 all'Olimpico Prima partita per la Roma all'Olimpico in questa Europa League Poi dopo il Sesca Sofia avremo la Fiorentina domenica 1 novembre ore 18 E poi il giovedì dopo 5 novembre Roma Cluj sempre all'Olimpico Una Roma che praticamente deve a questo Tour de Force giocheremo fino all'8 novembre Due volte a settimana praticamente la Roma che chiuderà l'ultima partita prima della sosta È quella di Genua contro il Genua alle 15 domenica 8 novembre Però dobbiamo concentrarci soltanto sulla partita di domani Che è la più difficile tra queste che ho appena detto Sicuramente una Roma che deve cercare di portare a casa i tre punti Speriamo di commentare una partita positiva della Roma E soprattutto speriamo di commentare una vittoria dei giallorossi A proposito di vittoria la Roma primavera che è prima a 15 punti nel suo campionato I ragazzi di Alberto De Rossi stanno facendo benissimo Ieri hanno vinto contro la Lazio per 4-0 Ci sono dei prospetti veramente interessanti in primavera Una Roma che ha praticamente surclassato la Lazio meritando di vincere E speriamo possa continuare così E speriamo che questi ragazzi possano essere utili Soprattutto per il futuro Sta facendo benissimo la squadra di De Rossi Basti pensare che Fonseca ha convocato per domani L'ex Paris Saint Germain Providence classe 2001 L'ha portato già Luca Petraghi a Roma Questo è importante ricordarlo Ieri ha fatto una grandissima partita Ha anche trovato il gol Providence Domani sarà stato convocato con la prima squadra Sicuramente una grande emozione per lui Facciamo un grande in bocca al lupo a Providence Non sarà della partita con molta probabilità Però insomma speriamo che il suo esordio in prima squadra Possa arrivare il prima possibile Detto questo ragazzi Io vi invito a seguirci sul nostro sito www.illegionario.info Dove potete trovare tutti i nostri articoli Vi invito a seguirci sui nostri social Su Twitter, su Facebook, su Instagram Seguiteci sulla nostra radio Dove potete ascoltare tutti i nostri podcast E iscrivetevi al nostro canale YouTube Un saluto a tutti E sempre sempre Forza Roma